Oggi abbiamo il piacere di avere qui con noi un giovane campione, un protagonista sui circuiti di tutto il mondo di San Giovanni Rotondo, ha soli 25 anni ed è ormai conosciuto da tutti, ma molto amato soprattutto dagli appassionati di motociclismo e anche da tutti gli altri sportivi sicuramente, perché adesso vi dico il suo nome e sicuramente in tanti poi ricorderanno di chi si tratta. Michele Pirro, benvenuto Michele. Ciao, buongiorno a tutti. Ciao, grazie Michele per la tua presenza. Noi siamo fieri di te perché sei di San Giovanni Rotondo, perché sei giovane e poi onorati anche della tua presenza ovviamente. Grazie a voi per l'invito, mi fa molto piacere essere qua a Teleradio Padre Pio e spero di poter dare delle informazioni in più. Un bel messaggio, ci darai sicuramente, una bella testimonianza. Innanzitutto tanti auguri e complimenti per la tua ultima vittoria a Valencia, il 6 novembre. Sì, grazie. È stata una gara difficile dal punto di vista... Una gara speciale. Una gara speciale, perché comunque venivamo dalla Malesia, dove io ho perso il mio compagno di squadra, Marco. E quindi niente, è stato tutto in due settimane difficili, perché inizialmente dopo quello che è successo in Malesia non c'era più la voglia magari di continuare anche da parte del team, perché Gresini comunque in otto anni ha perso due piloti nel moto mondiale e quest'anno Marco, otto anni fa dai girocato. E quindi, diciamo, li è un po' crollati in mondo addosso, però come a lui, un po' a tutto il gruppo. È ovvio, perché siete comunque legati in modo particolare, una volta che si è lì. Si crea una famiglia. Esatto, perché anche se facevo Moto2, lui faceva MotoGP, però il team e il gruppo si muoveva sempre assieme, eravamo sempre uniti. Quindi questa cosa qua ha creato un po' di incertezze. Esatto. C'è stato il grande dolore, però poi c'è stata la grande gioia. Questa vittoria, dicevamo, una vittoria speciale, forse perché sulla moto non eri da solo, eravate in due. Sono andato a Valencia, innanzitutto avevamo avuto un po'... Ci sono stati alcuni giorni che abbiamo dovuto convincere Fausto, Gresini, perché lui non voleva partecipare al Gran Premio. Però abbiamo preso un po' l'iniziativa, i piloti e un po' il gruppo e l'abbiamo convinto ad andare a fare la gara perché io credo che era giusto così. Perché comunque Marco è morto facendo il nostro sport, la nostra passione, quindi sicuramente avrebbe voluto così. E niente, ci siamo fatti coraggio, ci siamo rimasti uniti e sono andato a Valencia con la consapevolezza di dover dare il massimo e cercare di onorare al meglio Marco. E' stato un weekend particolare perché comunque ho conquistato la Paul già al sabato. Devo dire che Valencia è una pista che mi faceva soffrire meno dal punto di vista del motore, che è stato il nostro punto debole tutto quest'anno. E' una pista dove ci sono parecchie curve e c'è da guidare molto. E quindi già al sabato c'era un po' un'aria strana perché ho fatto la Paul, la mia prima Paul nel moto mondiale. E la domenica niente, è una gara incredibile perché il primo giro ero settimo, dopo tre giri ero primo, sono stato sempre tutta la gara primo. E' stata una gara difficilissima ma più che altro lunghissima, 24 giri da solo a comando così senza commettere errori. E' stata lunghissima. Allora per sdrammatizzare la tensione ogni tanto chiedevo a Marco di starmi vicino e di avvisarmi se le condizioni della pista cambiavano. Però è stato tutto speciale. E' proprio questo che ti volevo poi alla fine chiedere. Cosa si pensa dentro al casco? Tu ci stai dicendo che in quel momento dialogavi anche con lui, con Marco. Ma sai, fare più di 40 minuti di gara. Dove vanno i pensieri? Dove va la mente? Niente, io ho detto che questa gara mi dicevo tra me che dovevo vincerla per lui, per il team, per la sua famiglia, per ricordarla al meglio. Anche perché sulla mia moto lui era rappresentato in maniera importante. E quindi volevo che lui rimaneva nei nostri ricordi in questo modo. Infatti dopo la mia gara sono state finalmente cancellate le immagini. Non dico cancellate, però sono state un po' archiviate le immagini del suo incidente che fino al giorno prima andavano in continuazione. E' vero, questo è vero. Un ragazzo speciale, Marco, evidentemente un ragazzo speciale anche tu. Tu parlavi di compagno di avventure, Simoncelli, per te. Però sicuramente è stato anche una persona che ti ha dato significato. O almeno ti ha lasciato sicuramente il segno che porterai con te. Noi siamo stati avversari in passato, però quest'anno io sono tornato al moto mondiale. Lui abitava a Coriano, vicino a Rimini e io stavo a Cesena. Quindi praticamente molte serate le passavamo assieme con i go-kart, con Valentino. Che poi, diciamo, i piloti siamo avversari, ma dopo fuori ci divertiamo. Quindi diciamo il gruppo, poi eravamo italiani, quindi gli altri due piloti del team sono giapponesi. Quindi diciamo il gruppo era unito. E poi credo che comunque Marco aveva una grande, ha avuto una grande opportunità, quella di guidare la Honda ufficiale, meritatamente, e stava dimostrando di comunque saperla guidare. E forse era il futuro, diciamo, del motociclismo italiano, diciamo, in prospettiva, il dopo Valentino. Ecco, era quello che sulla carta era messo meglio. Abbiamo parlato già di Marco Simoncelli. Lo volevamo tenere alla fine, io sinceramente volevo tenerlo alla fine, però è stato giusto così, è stato bello così. Perché evidentemente il tuo primo pensiero, quando si parla di quella vittoria, va proprio a lui. Ma va a lui perché quello che è successo in Malesia non doveva succedere, ma sono coincidenze della vita. E penso che lui in Malesia non era il suo giorno, oppure era il suo giorno dal punto di vista, diciamo, Dio, come è andato. E magari a Valencia era il mio giorno da un altro punto di vista, cioè, a Valencia era il mio giorno dal punto di vista della gioia. E in Malesia per noi è stato un giorno difficilissimo. Un giorno di dolore, ma per tutti, anche per chi non seguiva proprio da vicino il motociclismo. Questo ormai l'avrai capito come l'hanno capito in tanti. Perché Marco comunque si è fatto voler bene sia in vita e poi soprattutto per chi ancora non lo conosceva, insomma, anche dopo. Sì, quelle immagini lì rimarranno per sempre nella mente di tutti, perché non è bello comunque morire in quel modo. Però lui, diciamo, nel senso buono era ignorante, perché lui è sempre stato così e quindi non ha lasciato la moto fino all'ultimo secondo. E questo qua, diciamo, la sua aggressività, la sua tenacia magari questa volta gli è costata gara. Però lui era così e lui diceva sempre che se le gare, bisogna farle le gare, le fai così, le affronti in questo modo. Oppure lui dice, mi sto a casa. Però credo che il motociclismo non è quello che abbiamo visto in Malesia. Credo che sia, diciamo, una parte bella. È normale che sia uno sport pericoloso, però credo anche che comunque sono episodi che succedono raramente. E quindi rimango della mia idea che la strada o altre circostanze sono molto più pericolose. Purtroppo quello che è successo, cioè, normale, dispiace e uno pensa che è pericoloso. Sicuramente il nostro sport vai a 300 km orari, quindi lo metti in conto. Non è che io non mi sono mai fatto male, cioè, ho parecchie ossa rotte. Hai paura tu, Michele, quando corri? Ma un po' di paura ce l'hai sempre, di farti male. Cioè, è normale perché comunque dopo si soffre, sai, devi star fermo. Hai avuto paura dopo quell'evento? Ti vengono in mente all'inizio un po' di dubbi, pensieri, però dopo due o tre giorni ti viene la voglia di andare, cioè, non ce la fai a stare a casa perché è la passione, la vita, è quello che è investito tutto per questo. E credo che comunque se uno arriva a certi livelli lo fa soprattutto perché è spinto dalla passione, perché i sacrifici sono tantissimi. I sacrifici si fanno sicuramente anche nel vostro mondo. Michele, com'è nata però questa passione? Torniamo un po' indietro nel tempo. Tu hai 25 anni, quando ti sei innamorato della moto? Io da piccolino, perché mio papà ha un market e quindi ero circondato da mezzi, da tre ruote, due ruote, perché il negozio era impostato in questo modo, con consegne a domicilio e altre di questo genere. Quindi io sono sempre stato coinvolto nei mezzi, in queste cose qua e da piccolino sempre scooter, tre ruote, ape, sempre così. Fin quando un giorno ero abbastanza pericolato e credo che sia stata una fortuna forse iniziare a correre, perché se penso a quello che ho fatto da piccolo per strada, secondo me sono stato molto fortunato, perché l'incoscienza che avevo era incredibile e mi ritengo molto fortunato di non essermi fatto male, perché veramente se penso a quello che ho fatto, cose incredibili. Quindi dopo piano piano ho convinto i miei genitori a portarmi in pista, soprattutto a mio padre e niente, da lì ho iniziato l'avventura, ho comprato moto, così. Anche se è stato difficile, perché non è il pallone la moto, a parte che vengo da una terra dove le moto è zero, quindi se proprio dovevo scegliere di fare uno sport, ho scelto quello sbagliato. Però devo dire che grazie ai miei genitori la passione anche di mio padre magari mi ha coinvolto tanto e poi è stata anche la tenacia di mio padre di insistere, perché ti dico loro, io ho tanti sacrifici perché ero piccolino, ma a me non mi pesavano perché lo facevo con la passione, ma i miei genitori ne hanno fatti più di me, quindi mi hanno portato, hanno investito soldi, tempo, impegno, impegno, magari hanno trascurato anche il lavoro che allora e adesso è la prima fonte di guadagno. Io per loro ho una spesa e sai è uno sport che non è che basta comprare le scarpette, c'è uno sport molto molto costoso. La mia fortuna è stata anche dopo un annetto, qualche gara che correvo, di vincere subito e quindi di farmi notare subito da molte persone che poi mi hanno permesso di arrivare a un certo livello. Se non fosse successo così penso che non ci sarei mai arrivato perché questa terra non offre opportunità di questo genere e quindi neanche i miei avrebbero potuto magari sopportare delle spese poi molto più grandi perché comunque questo sport è costosissimo. Ti saresti dovuto fermare? Sicuramente, poi dopo sai vieni da una terra dove le piste non ci sono, la pista più vicina è Binetto che è a 200 km da qui ma è una pista molto piccola, quindi la pista più importante è Misano, ma Misano già è più di 400 km, quindi ogni volta che devi partire sai è una trasferta. In più io rispetto ai miei colleghi non ho mai fatto le mini moto, non ho mai corso con le mini moto, quindi non ho genitori che hanno partecipato a gare di mondiale, ho fatto, quindi è stato tutto un percorso in salita ecco, però anche se magari sono arrivato un po' più tardi non sono arrivato dove vorrei ecco, però diciamo le mie soddisfazioni me le sono tolte perché comunque ho vinto un campionato europeo, ho vinto tre campionati italiani, ho vinto gare mondiali, quindi comunque nell'ambiente sono ritenuto uno dei piloti più forti, ecco poi sai il motociclismo a livello mondiale ha 5 categorie, io ne ho partecipate a 3, l'anno prossimo partecipo alla quarta, mi manca poi solo il mondiale superbike, però dai ho lasciato un po' il segno dappertutto. Noi ci prenotiamo già, per quando sarai su quell'altro podio, te lo auguriamo, però ti ricordi la tua prima volta in pista? Sì mi ricordo, mi ricordo molto bene, una fatica incredibile anche perché avevo una pancia, ero 1,60 per 85 kg. Poi sei cresciuto in altezza o no? Mi ricordo la prima volta perché facevo una fatica incredibile e dopo la seconda volta una persona che tra l'altro adesso è diventato un personaggio importante nell'ambito del motociclismo italiano come dirigente di un autodromo, gli disse con mio padre, siccome ero molto grasso, ero piccolino, facevo una fatica incredibile, gli disse con mio padre che è inutile che continui a spendere dei soldi perché lui al massimo può girare attorno alla tavola perché con la pancia così... E adesso che fine ha fatto? Mi è servita, in sei mesi ho perso 20 kg e quindi dopo da lì ho detto vabbè adesso vediamo chi ha... Senti è quello lì? Si è fatto più rivedere? Come al solito, le persone quando sei un cavallo perdente ti snobbano, quando cominci ad avere un po' di successo ma non è niente, perché sul cavallo vincente vorrebbero salire tutti. E la tua rivincita? Ma no, la mia rivincita non è questa, io le cose le faccio per me, per la mia famiglia ma soprattutto per una mia soddisfazione personale, ho i miei obiettivi e voglio cercare di raggiungerli, non mi interessa degli altri, delle opinioni degli altri, sono sempre andato avanti con la mia testa, ho passato anni difficili e quindi credo che non faccio le cose per gli altri o non faccio le cose per... Contro gli altri. Contro gli altri, io faccio tutto quello per me, è importante che quando la sera ho finito qualcosa sono soddisfatto, sono contento di quello che ho fatto. Sei una bella persona, questo penso si possa sentire e vedere. Parlavi di valori, la tua famiglia, potresti fare o vorresti farla una graduatoria, un elenco? A che posto metti la famiglia? A che posto metti la moto? No, al primo posto... La tua ragazza! No, qui c'è uno scontro molto duro. No, vabbè, naturalmente per quello che ho fatto devo dire grazie a loro, però devo sottolineare che io ho due famiglie, perché ho la mia famiglia di San Giovanni, che sono i miei genitori veri, e poi ho la mia famiglia di Cesena, che è il mio presidente del mio motoclub, e la Patti, che sono le persone che mi hanno adottato da quando avevo 16 anni, e quindi sto a casa loro a Cesena, ho una casa con loro, e quindi vivo lì gran parte dell'anno, e quindi ho due famiglie, però sicuramente vanno al primo posto loro, perché questo sport è molto anche crudele, io lo scorso anno mi sono rotto una mano, mi si è staccato una mano e ho rischiato di non correre più, quindi la moto per me adesso è la priorità, però la famiglia sono le persone che ti stanno vicine nei momenti difficili, e quindi credo che al primo posto sicuramente la famiglia. Quella non si tocca? Sì, sicuramente. Poi magari ci si può giocare il secondo posto? Sì, no, dai, c'è, diciamo... Era una provocazione, più che una domanda vera e propria, insomma, ti ho voluto un po' provocare. Perché poi la moto non è che vai in eterno, non è che puoi correre in eterno, in più adesso sono diventato anche poliziotto. Infatti, proprio la volevamo arrivare, poi ti lasciamo perché sappiamo che sei anche tanto impegnato, qui a San Giovanni poi ti cercano tutti evidentemente. Beh, io so solo che questo è il mio paese... Però è disponibilissimo, hai detto subito sì. No, ma perché il mio paese, io sono orgoglioso di essere di San Giovanni e ti dico se avessi la possibilità rimarrei sempre, perché, a differenza dei miei coetanici, magari alcune volte l'incontro e sono delusi del paese, io penso che giro il mondo e ti posso garantire che a San Giovanni si sta molto, ma molto, ma molto bene. Sono orgoglioso di essere di San Giovanni, sono orgoglioso di essere del paese di Padre Pio e quindi per impegni ecco mi devo muovere di continuo, ma per come si vive, secondo me non si vive male. Adesso San Giovanni è conosciuta non solo per Padre Pio, ma anche per Michele Pirro. Eh, questa è una grande soddisfazione, esatto, sono contento, sai, anche girando il mondo, sai, vieni etichettato anche questa cosa qua, è un onore per me, quindi niente, sicuramente Padre Pio è Padre Pio, quindi... E io, cioè, e sono sicuramente, lui mi dà una mano, ecco. È una cosa bella anche questa. Anche perché molte volte si chiede aiuto anche a lui, ecco, nei momenti difficili, quindi... Magari sotto quel casco, ogni tanto... Speriamo che, speriamo che lui mi dia la forza per andare avanti. E sarà sicuramente così. Parlavamo di polizia, tu adesso hai fatto un'altra scelta nella tua vita, quella di far parte della polizia, appunto, le fiamme oro, giusto? Perché questo, quest'altro desiderio? Diciamo che è stata una cosa non propriamente voluta, ma sono stato coinvolto in questa... Io non sapevo, perché ero impegnato in altre cose, non sapevo che... Cioè, sapevo dell'esistenza di questo gruppo sportivo, però non potevo mai immaginare di poterci far parte. Ma l'anno scorso, diciamo, siccome ero il pilota italiano, uno dei piloti italiani emergenti, diciamo, mi hanno chiesto se avevo piacere di far parte. Io, quando me l'hanno detto, ho accettato molto volentieri e quindi niente, ho fatto tutta la trafila, il bando, tutte le cose che vanno fatte e quindi sono risultato vincitore di concorso per meriti sportivi anche, perché comunque lì valgono i meriti sportivi. E niente, praticamente da qualche giorno... L'ufficializzazione è stata già fatta circa un mesetto fa, ma da qualche giorno sono diventato ufficialmente poliziotto a tutti gli effetti. Sono già stato in caserma, mi è andato a trovare divisa. Dai, non pensavo peggio. Non è male. Non pensavo peggio. Sei in un posto sicuro. No, è una nuova esperienza, però adesso l'obiettivo rimane quello comunque... Sono onorato di far parte, di rappresentare lo Stato in tutto il mondo. L'obiettivo rimane quello di portare in alto insieme al mio paese, alla mia famiglia, a tutte le persone, anche la polizia, perché adesso comunque sono un poliziotto e rappresento la polizia. Quindi ti vedremo ancora correre con il casco che indossavi durante la tua vittoria? Sì, sì. Quello è il simbolo che mi distinguerà nel prossimo moto mondiale, il casco della polizia. E il 51? Perché questo numero? Il 51 viene... Io ho vinto l'europeo nel 2004, il campionato europeo, e praticamente avevo il numero 5. L'anno dopo ho partecipato al mondiale, il numero 5 sai va in ordine per la classifica, allora ho preso il 15, mi ho messo l'1 che avevo vinto l'europeo e il 5 che avevo nell'europeo. Solo che dopo la stagione del moto mondiale, che è stato un disastro, ho detto proviamo a dare una svolta a tutto, ho invertito i numeri. E devo dire che a parte che mi piace molto, e poi è un bel numero, alla gente piace, quindi l'anno prossimo penso che per il futuro sarà il mio numero, sempre il mio numero. Ormai vengo di distinto per quello. Sulla moto nell'ultima gara avevi anche il volto stilizzato di Marco Simoncelli, il tuo amico... Il 58 rimarrà sempre nella mia tuta, sul mio cuore, e nel mio cuore sempre il 58, dovunque dove vado, e niente, Marco rimane sempre con me. Correrete in due? Sicuramente, come sempre, come l'ultima gara. Si legge anche un po' di commozione nei tuoi occhi, noi ti facciamo tanti auguri Michele, sei davvero una bella persona, però puoi farci un'anticipazione per il tuo prossimo futuro in pista, se vuoi, altrimenti lasciamo tutto così. Molto probabilmente mi rivedrete su Italia 1, ma non alle 12 e un quarto, ma alle 14. Non era quello che magari avrei voluto, perché avrei preferito magari rifare la Moto2 per provare a essere protagonista, fare un anno comunque per giocarmi il titolo, ma non dipende da me, quindi cause di forza maggiori, niente, mi vedrete alle 14. Quindi chi vuol capire, insomma, capisca. Esatto. Michele, sicuramente c'è anche una spinta in questo senso, probabilmente con quell'angelo che sta su adesso, che ti accompagna, probabilmente ha voluto anche questo. Prendiamola così, ecco, magari... Ma ormai sono tante coincidenze che ci hanno legato, quindi niente, sì, dispiace perché comunque magari saremmo potuti essere compagni di squadra nella stessa categoria, era una bella cosa avere un binomio tutto italiano, e sicuramente magari io avrei potuto imparare da lui, perché lui comunque già era diversi anni che era nel Moto Mondiale, però il destino, quello che ha voluto così, e niente, io cercherò, non guiderò la sua moto, sicuramente, perché la sua moto è stata data a Bautista, e guiderò la moto clienti, però spero di dare il massimo e di divertirmi, e di portare in alto il nome, diciamo, di San Giovanni, di tutte le persone, e onorare al meglio Marco e il team, che comunque hanno avuto una grossa perdita. Team Gresini che è diventata una famiglia. In conclusione, sai di essere un modello per tanti giovani, un messaggio per loro, anche perché abbiamo parlato della differenza che c'è tra il correre sulla strada e il correre su una pista, ecco, magari se arriva da te proprio un invito, un messaggio per loro, è molto meglio, e poi ti lasciamo. No, io faccio parte, diciamo, soprattutto magari non in Puglia, perché, sai, non viene sfruttata tanto la mia figura in Puglia, però da altre parti faccio parte di, faccio anche la sicurezza stradale per i giovani, e l'unica cosa che posso dire è che la cosa importante non è la velocità, noi facciamo uno sport che è pericoloso, però lo facciamo in sicurezza, e negli ultimi anni si è cercato di curare molto, togliamo l'episodio Simoncelli, ma ci è cercato e si sta cercando di curare molto il discorso sicurezza. La cosa importante è per i giovani, prima di fare qualsiasi cosa, noi di solito allacciamo il casco, loro bisogna che collegano la testa, bisogna che inseriscono quel contatto che li faccia ragionare, perché poi è quello che, secondo me l'incoscienza, il fatto di non ragionare ti porta a fare degli errori, però il problema è che gli errori fatti per strada, di solito difficilmente perdonano, quindi se io rischio in una curva, perché magari io lotto contro il tempo, perché questo è lo sport, so che magari posso scivolare, ma finisce lì, il problema è che l'errore per strada lo paghi caro, non puoi permetterti di arrivare in una curva più forte o al limite, perché non sai cosa ti trovi dopo, oppure c'è il guardrail, oppure c'è un'altra macchina, oppure qualsiasi ostacolo, cosa che noi questo problema non ce l'abbiamo, quindi non va preso esempio la moto, la moto è uno spettacolo, quello che si vede, però la cosa importante è che i giovani capiscono che con i sacrifici si può arrivare, si può fare molto, se uno ci crede può riuscire in qualsiasi cosa, io credo che ne sono la dimostrazione, perché sono venuto fuori da una terra che non offriva molto per quanto riguarda il mio sport, però la mia forza di volontà ha permesso questo, solo che vedo nei giovani i sacrifici non se ne vogliono far tanti, purtroppo questa è una cosa molto grave e non è che ti porta avanti, purtroppo in questo mondo per come sta andando non ti regala niente nessuno, quindi la cosa importante, quello che posso dire è che se uno ha un obiettivo bisogna che ci crede, sempre e anche se magari non vedi la via di uscita bisogna sempre crederci e poi qualsiasi cosa che viene fatta quando si va per strada bisogna usare la testa, assolutamente, perché solo usando la testa non siamo stupidi, e quelle cose che magari si fanno le fai perché magari in momenti di euforia tutto, invece bisogna controllarsi. Complimenti Michele e tanti auguri. Grazie a voi per l'invito, spero di tornare al più presto. Alla prossima vittoria. La prossima vittoria non lo so, mi sa che il prossimo anno è dura, però... No, noi abbiamo la speranza e anche la certezza che tu ce la possa fare, anche questa volta. Vediamo, il prossimo anno ti assicuro che è molto dura, se ripetevo la moto 2 penso che ci saremmo ripotuti vedere spesso. Ma no, ma devi essere sicuro di questo anche. Bisogna crederci, ecco adesso non mi voglio illudere, però sicuramente sarà un anno difficile dove bisognerà fare esperienza e sono al top del moto mondiale, quindi con i migliori piloti al mondo devo imparare. Sarà un anno di apprendistato. Noi saremo con te, grazie a Michele Piero e tanti auguri. Grazie, grazie a voi. Grazie mille. Grazie a tutti.